Esprimo vive condoglianze per la triste notizia dell'aereo russo precipitato nel Mar Nero. Il Signore consoli il caro popolo russo e i familiari dei passaggeri che erano a bordo, giornaliste, equipaggio e l'eccellente coro e orchestra delle Forze Armata e la Beata Vergine Maria sostenga le operazioni di ricerca attualmente in corso. Nel 2004 il coro esibì in Vaticano per i 26 anni del pontificato di Santo Giovanni Paolo II. Preghiamo per loro.